ah aspetta hai visto hai visto secondo te cosa faccio adesso la galopera ma no mi scoprite tutte le carte no voglio suonare quando l'ho mai fatto suonare suonare bicicletta grazie ti do 5 euro anch'io così ti compro i segreti ma fumi no sei giovane allora spero di non cadere se no se picco anche il resto finita allora max parti pure con la galopera dedicato di voi vince spagnolo vai Sì! Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.